Diciamo che andiamo avanti nonostante il risultato da cui ovviamente dobbiamo imparare la lezione dobbiamo radicarci molto di più sui territori, è sempre stato un nostro problema a questo punto servirà strutturarci un po' di più per supportare i nostri consiglieri comunali e i nostri gruppi locali che hanno bisogno evidentemente di maggior sostegno Ecco, per quanto riguarda Bologna, quanto può aver pesato ad esempio la vicenda del passante? Insomma, prima un Bugani che dice non si farà mai, poi Toninelli che rilancia il progetto Ma io credo che abbia pesato più che altro l'ascolto dei territori che forse è la cosa che è mancata di più, cioè dobbiamo essere molto più connessi la base con i nostri esponenti a livello governativo Credo però che ci sia stato, questo è evidente, un grosso traino della Lega dove, lo ripeto, noi ci siamo assunti delle responsabilità lo abbiamo fatto con grande serietà, 9 provvedimenti su 10 sono nostri però questo, come dicevo, significa anche probabilmente non piacere proprio a tutti dall'altra parte la Lega ha fatto tanta propaganda e probabilmente si è sporcata di meno le mani questo forse è la cosa che dal mio punto di vista ha pesato di più fermo restando che dobbiamo ovviamente lavorare molto di più di squadra e ritornare sui territori dove dobbiamo mettere radici E poi quello che ha detto oggi Luigi Di Maio in conferenza stampa insomma ripartire dal fare, dal base Esatto, esatto e in questo senso Luigi diceva anche che verrà sui territori a parlare e a capire soprattutto le esigenze c'è tanto bisogno di parlarsi e di portare a livello nazionale quelle che sono le esigenze che noi cogliamo come esponenti insomma come consiglieri, come consiglieri comunali ma anche come semplici attivisti le tante esigenze che vengono dal territorio devono trovare risposte a livello nazionale e questo lo si fa naturalmente lavorando di squadra e non abbandonando i territori sicuramente Ecco, proprio a livello nazionale temete che l'alleanza di governo possa saltare perché è vero seppur voti diversi e non si può mai prevedere quanto un risultato influisca poi sull'elezione successiva però è vero che la Lega potrebbe anche andare avanti in autonomia con Fratelli d'Italia e Forza Italia quindi facendo a meno dell'attuale alleanza di governo Allora questa è una possibilità, mi pare però che sia già stata smentita sia da Luigi che da Salvini e quindi io credo che ci sia la volontà in realtà di andare avanti rispettando ovviamente il contratto di governo questa è condizione imprescindibile perché i provvedimenti da fare, come dicevo, sono tanti c'è bisogno di dare risposte al nord parlavo appunto della diminuzione della pressione fiscale tutta un'altra serie di questioni ci piacerebbe dimensare il numero dei parlamentari inserire il salario minimo orario ci sono tante proposte che devono essere portate avanti abbiamo fatto un anno di mandato la nostra esigenza era quella di dare una risposta a quella che è una vera emergenza quindi i più poveri e adesso dovremmo cominciare a rivolgersi a imprese, a lavoratori insomma da fare ce n'è se c'è la voglia anche di andare avanti noi ci siamo, l'abbiamo detto rispettando quello che abbiamo concordato all'interno del contratto di governo Ecco, le faccio l'ultima domanda prima di lasciarla andare e chiudere questa nostra trasmissione nelle prossimi mesi dovrete decidere come posizionarvi all'interno di quella che sarà una competizione evidentemente molto dura per contendere questa regione al centro-sinistra come pensate di muovervi? Allora, noi alle regionali siamo sempre penalizzati dal fatto che ci presentiamo da soli e dobbiamo vedercela con liste, listine insomma raggruppamenti vari schierati a destra e a sinistra c'è una discussione in corso all'interno del movimento c'è l'ipotesi di aprirci alle liste veramente civiche è una discussione che verrà in corso vediamo che cosa ne verrà fuori c'è tutto un dibattito di riorganizzazione del movimento all'interno di questo dibattito c'è anche una possibile alleanza con le vere liste civiche è chiaro che andando da soli siamo sempre un po' penalizzati però siamo forti, diciamo, delle battaglie che portiamo avanti e poi, ripeto, c'è questa discussione cercheremo un attimo di strutturarci un po' di più perché sicuramente ce n'è bisogno per competere anche in una regione che è diventata contendibile oggettivamente Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille